Vice sindaco, finalmente dopo tanto aspettare sono arrivate le deleghe. Sì, ieri il sindaco ha firmato le deleghe per i vari assessori, adesso ogni assessore avrà un suo compito specifico. Devo dire la verità però per onore a quella che è la sostanza di questa vicenda, quella delle deleghe alla fine finisce per avere una valenza più giornalistica, più formale che sostanziale, perché comunque fino adesso la Giunta da quando è stata nominata ha comunque operato e si è cimentata nell'affrontare le varie problematiche presenti sul territorio, che ricordiamo che la Giunta è un organo collegiale e quindi nella sua collegialità tende ad affrontare quelle che sono le problematiche nel Paese e a trovare le soluzioni. A lei la delega agli affari generali vuol dire che continuerà ad occuparsi e a supervisionare un po' tutte le materie comunali? Sì, cercherò di dare un contributo nell'ambito di quella che è l'azione amministrativa nel suo complesso in genere, cercando comunque sempre di tenere sott'occhio quelle che sono le competenze per le quali ho una maggiore inclinazione tecnica, quale per esempio in materia di contabilità e di bilancio che cercheremo di osservare con maggiore attenzione. Una delega che era stata al centro delle discussioni negli ultimi settimane è stata quella al turismo, delega che poi il sindaco Ferrandino ha deciso di tenersi per sé. Guarda, anche questo, come dicevo in precedenza, secondo me è più frutto di rappresentazioni giornalistiche. Chiaramente chi fa notizia, chi alimenta la stampa ha proprie finalità da perseguire. Tutta questa diatriba oggettivamente nell'ambito della compagine amministrativa io non l'ho riscontrata. È un momento particolare dove c'è bisogno di una presenza particolare e di una statura istituzionale molto simbolica e quindi è giusto che la delega al turismo venga gestita direttamente dal sindaco. È chiaro che nell'ambito di quelli che sono i vari consiglieri, i vari assessori, ci sarà chi eventualmente di volta in volta tenderà a coadiuvare il sindaco nella gestione di questa complessa delega.